Il risultato è stato diciamo quello che abbiamo visto tutti però abbiamo portato a casa una grandissima cosa che abbiamo una bellissima squadra che sa fare veramente un bel gioco peccato perché abbiamo iniziato sempre 2 e i 3 set anzi 4 sempre con 4 punti di svantaggio perché andavamo sempre su 4 a 0 5 a 1 però abbiamo dei bravi ragazzi veramente forti